Consigliere Pignoli, dopo gli ultimi episodi di violenza accaduti su alcuni mezzi pubblici della tua, lei ha scritto una lettera al prefetto di Pescara chiedendo di prendere provvedimenti e soprattutto di tutelare maggiormente la sicurezza del personale che lavora sui pullman. Sì, ha detto bene lei, non solo al prefetto, ho scritto a questore, ho scritto al comandante della Polizia Municipale, ho scritto al sindaco, ho scritto anche al presidente della commissione che dirige l'ordine di sicurezza, che è il dottor Pier Nicola Teodoro, affinché si individui un tavolo per eliminare questo problema. Ormai è un problema annoso, persone anziane, bambini, genitori sono intimoriti di prendere il pullman. Questo non è possibile, è una città bella, è una città democratica, è una città splendente come la città di Pescara. Dobbiamo risolvere assolutamente questo problema, individuare attraverso un bando, attraverso una concertazione privata, poi vedranno loro quale modus operandi è meglio nei limiti e nel rispetto della legge, associazioni di volontariato che abbiano protezione civile, che possano mettere degli uomini, ovviamente gratuitamente a costo zero per la tua, per l'amministrazione comunale e quant'altro, che facciano da deterrente per questi soggetti che nonostante non pagano il biglietto causano anche danni e disagi alle altre persone che legittimamente stanno prendendo il pullman. Mi riferisco ovviamente alle tratte quelle più importanti, mi aspetto nei prossimi giorni una risposta in tal senso e mi aspetto anche una soluzione immediata per questo problema che è diventato un problema non importante, ma per la gente che frequenta quel pullman, che frequenta quelle linee, determinante.